Lo sapevi che Leve Postumi è un percorso percorribile ancora ad oggi ed è stato creato dal console Postumi Albino nel 148 a.C.? Sono quasi 900 km e si percorre in circa un mese e mezzo ed è stata ideata perché si voleva collegare per via Terra i due principali porti del nord Italia, che erano Aquileia e Genova, tuttora punti di partenza e arrivo del cammino. Per maggiori informazioni seguimi su YouTube. Ciao!